Se voi volete continuare ad essere discepoli, perché il discepolo non è solo colui che è battezzato, colui che ha creduto una volta, discepolo di Gesù è colui che quotidianamente dal mattino decide di avere un solo maestro, una sola guida, un solo pastore, un solo signore. Ti diciamo, Gesù Cristo voglio anche oggi appartenere a te. Io so che andrò nel mondo, so che avrò tribolazioni nel mondo, ma come tu mi hai detto, sono stato scelto da te per vivere nella tua luce, in un mondo che molto spesso è di tenebra e di menzogna. Non temere se a causa delle tue scelte come cristiano, delle tue decisioni, del tuo stile di vita, sei odiato, sei allontanato. Perché tu mi hai scelto. Voi non siete del mondo.